segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te da quello che ha detto erdogan bisogna vedere quale titolo scegliamo perché nello stesso speech per erdogan ha detto crimea appartiene all'ucraina e deve essere ritornata all'ucraina e quindi due giorni fa aveva detto l'ucraina è pronto a fermare la guerra però non è pronto a cedere i territori poi la mass media ha ripreso solo la prima parte di erdogan non facendo attenzione sulla seconda quindi non c'è nessuna differenza sulle posizioni di erdogan che in questi mesi ha giocato un ruolo importante di mediazione sul grano il suo ruolo nel negoziazioni principali che dovevano portare alla pace invece si è rivelato fallimentare ma non per colpa di erdogan e ieri non so se è stato già detto nei media italiane ieri notte è stato un scambio dei prigionieri molto importante a 205 combattenti di combattenti di un oligarca in cambio di medvecciuk e 55 soldati russi con la mediazione di erdogan perché il governo ucraino appunto ha voluto ringraziarlo fratta fra l'altro cinque capo combatenti diciamo così di asostal rimangono in turchia le garanzie date da erdogan fino alla fine della guerra ora parlando se ci sono i spazi per i negoziazioni io ero una sui negoziazioni scettica fin dall'inizio dal dare che ha scritto un articolo per l'ha finito un posto dove dice le parole di putin uccidono letteralmente ogni residuo ipotesi di negoziato perché sì perché chiamando per il referendum ma è chiaro che come andranno avanti questi referendum e che risultati nel dom non del donbass e con la parola donbass bisogna essere molto attenti tanto vero che neanche putin ha usato questa parola ha detto ha voluto sottolineare nel suo discorso che la russia ha quasi liberato dai nazisti regione di lugansk mentre donets 45 per cento rimane proprio fuori dell'occupazione in questo momento l'ucraini stanno combattendo nella regione di lugansk per riprenderlo indietro lui appunto ha annunciato referendum luca nella regione di lugansk donetsa porosia e kherson facendo così ovviamente si ripete il scenario di crimea dove il risultato è scontato cioè il referendum è falsificato a questo seguirà il decreto firmato dal presidente sull'incorporazione di questi territori quindi lui si è cacciato da solo in realtà l'angolo in cui per lui ma non solo per lui lui complica anche la vita al possibile successore perché per qualsiasi persona una volta incorporati questi territori sarà difficile restituirle quindi immagini immaginare un ucraina che sta in una fase di contro offensiva grazie e quindi in anche affermazioni come inviare le armi servivano per difendersi non solo servivano per liberare i territori dove sono stati da trovati le fosse comuni aius isium quindi non c'è solo buccia e siamo quasi sicuri purtroppo che la situazione è la stessa sotto kherson quindi le armi servono non solo per difendersi mai liberare quelli territori dagli occupanti perché sappiamo qual è la vita sotto l'occupazione poi le faccio un'altra domanda devo andare su bene